quando ti trovi nei luoghi affullati di fida da chi si presenta a te con modi gentili e ti avvicina e con la scusa o di chiederti l'elemosita o di chiederti l'ora oppure di venderti qualcosa della merce voglia farci cambiare delle banconote una serie di comportamenti di fida da queste persone fai attenzione soprattutto se ti spingono se ti abbracciano queste persone spesso e volentieri non fanno altro che prenderti quello che tu puoi avere addosso un portafoglio un gioiello un orologio